9-3-4 9-3-4-2-9 A che ci sono i... Quelli della sicurezza Esa sono sempre un bacio di uno Uno come va a che? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Destra, sinistra, nero, poi niente, forse sì, forse no. Buona visione. Cioè, buon ascolto. No, buona visione. Va bene, fate come c***o di perle, ok? Va bene? Vi saluto. Ciao, belli. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. signora e signora ragazzi e ragazzi benvenuti alla nostra ultima data no, quante volte ve lo devo rire all'ariston abbiamo fatto una data ci siamo già stati, non siamo all'ariston siamo al bono short di mille a tra pochissimo è salito sotto